Ragazzi qui sul canale ogni giorno vengono fatti nuovissimi regali Se volete ricevere anche voi skin, pass battaglia e accessori vari Sarà molto facile Vi basterà iscrivervi al canale Attivare la campanellina delle notifiche su tutte le notifiche Ovviamente lasciare un bel like sotto tutti i video Condividere a più amici possibili E inviarmi la richiesta di amicizia a questo id che vedete qui Official con lao grande trattino medio firex tutto maiuscolo Vi accetterò le richieste Vi verranno fatti dei regali Godetevi il video Bella a tutti ragazzi e benvenuti in questo nuovo video Guardate quanti PE stiamo facendo Mi raccomando seguite questo glitch XP se volete ricevere tantissimi PE Mi raccomando ragazzi prima di partire col video Like, iscrizione e campanellina attiva su tutte le notifiche Se volete ricevere skin, pass, battaglia e accessori vari Condividete a tutti i vostri amici Ovviamente sempre per ricevere skin, pass, battaglia e accessori E niente raga possiamo partire col video Ragazzuali siamo in una mappa di creativa Questa mappa di creativa vi farà fare un sacco ma un sacco di PE ragazzi La mappa della creativa è proprio quella che state vedendo al centro della creativa Che sarebbe 709916890224 Ovviamente il codice ve lo lascio anche qua sotto in descrizione Cosa dovremo fare appena entrati in questa mappa? Io sono già entrato per curiosare un pochino Arriveremo esattamente in questo posto qui Dovremo andare di nuovo nei respawni Vedete qua che ci sono i respawni Andate verso il respawn Ovviamente a voi vi spawnerà già nel respawn Prenderete un po' di danno La cosa che dovrete fare è Interagire con questo bottone Rientrerete qua Andrete a schiacciare questo bottone qua Che io ho già schiacciato per curiosare un pochino Che si chiama AFK XP Button E poi la cosa che vi consiglio è iniziare a sterminare tutti i polli ragazzi Perché sterminando tutti i polli riceverete un sacco di monete Con le manete voi direte cosa ci facciamo con le monete? Con le monete potrete comprare i XP Quindi ragazzi se passate qua una giornata con un vostro amico Farete così tanti PE che finiranno addirittura ai livelli di Fortnite Vedete ragazzi? Continuiamo ad uccidere i polli Polli, polli Siamo già a 140 monete Sterminiamo polli Ok ragazzi siamo arrivati a 250 monete Andiamo a prendere medium XP Vedete sbloccheremo già 2000 VBAC così Poi ogni 5 minuti se andrete in quest'altra stanzetta Vi spawnerà anche un pomodoro Che riceverete circa 3000 PE solo distruggendolo E ogni 5 minuti ne spawna una nuova Guarda quanti ce ne sono 9 pomodori Sono 5000 PE sia voi sia il vostro compagno Con cui starete facendo questa mappa Continuiamo a spaccare Ok ragazzi l'abbiamo distrutto Esattamente 2000 PE regalati così Ragazzuoli la terza cosa e ultimo consiglio che vi do È quello di andare verso questa stanzetta Schiacciare Bouncer Room Andate in Bouncer Room E ragazzi potrete fare quanti PE vorrete Perché starete in AFK Muovendovi lo stesso Quindi il gioco conterà come se stesse giocando E vi farà fare tantissimi livelli lo stesso Niente ragazzi se questo video vi è piaciuto Mi raccomando like iscrizione Like iscrizione anche per ricevere tantissimi regali Noi ci vediamo con un prossimo video Bella raga Grazie a tutti